E... Ciao a tutti amici coperiani e bentornati in questo nuovissimo video dell'anima di Tarkov Siamo al giorno 3 Ma prima di iniziare vi ricordo che sono live tutti i giorni su Twitch Ho quindi il link in descrizione E in caso non vado live o comunque per qualsiasi aggiornamento C'è pure il link di Instagram Perché pubblico pure praticamente lì tutti gli aggiornamenti Più ci sono altri link utili come il mio Discord personale E tante altre cosine, cosine, cosine Comunque Allora ovviamente ho giocato un pochettino da solo Sono arrivato ora al livello 12 Spero di arrivare poi al livello 15 abbastanza velocemente E... stavo pensando che questo fare Perché c'è... Shootout picnic Che mi mancano 6 scav Però probabilmente mi volevo togliere Signal parte 1 Perché... Insomma mi fa... mi fanno... mi fa comodo Andare un po' avanti anche con Mechanic Bunker non l'ho mai fatta Quindi non so che giri devo fare E... E niente Andiamo... andiamo su... su Shoreline E qui paggiamentino di oggi Che l'ho pure usato un po' su Factory Che mi è andata bene Ho ammazzato tre personcine Mi sono portato a casa un po' di robina Sono uscito che ero uno scolapasta Però... A K... A K M Che... che credo sia l'unica A K M che ho Quando poi mi toccherà fare le missioni E... di usare la K M Ma si comprano senza problemi Come vedete comunque con soldini Sto bene Tanto io gioco che tutto quello che trovo Poi... se non sono armi o armature buone Vendo tutto e sti cazzi Questa armatura è messa molto male Ma noi usiamo tutto quanto E... niente Ci si becca... in... Su Shoreline Eccoci qua Allora... Non mi sono di... Cioè mi ero dimenticato Ok mi ero dimenticato Che come prima cosa ormai di rituale È la scavettina preparatoria Abbiamo la revolver Pompa con Gli slagghettini Tanto tempo abbiamo Una ventina di minuti Uscite i ruiner dos Vettuli Dead end In north Pesso e usci Vabbè Noi ce ne andiamo al resort Fasterigno Fasterigno E poi Dopo ce ne torniamo Nuovamente su shoreline Ma stavolta Con... Il PMC Allora 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 Eccomi Sono andato a sgridare il cane Allora La mia missione È quella di Trovare Almeno Qualche cadavere Così faccio lo scav In tutti i sensi Voglio semplicemente Incularmi le cose Non usare mezzi termini Però Le mie scav Non sono mai così Buone Solo una volta Ho avuto un pochettino Di culo Con Con Visto che Piano piano Io mi sto riprendendo La 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 reputazione Con fence Non vorrei Sinceramente Perché la Lo scav Non gli ha Sparato Probabilmente Non era un player Cattivo Oppure Non era nemmeno Un player Però non voglio Rischiare Perciò vado direttamente Nel resort Probabilmente A 20 minuti Ancora qualcuno Ce lo troviamo Ma ci vedrà Ma ci vedrà Comunque Solo una volta Mi è andata bene Una Cioè bene È andata Ok Una scav In cui c'era Qualcuno Della scorta Morto In cui Però Sono riuscito A tirare su Soltanto Una k E Due Armore Red Rig Che ancora ho Perché uno Ce l'aveva Ancora addosso E Un altro Era stato droppato Dietro A un camioncino Nelle frasche E me lo son Ciulato io Solo che Adesso Andare con Robina Un po' più Gagliarda Ehm Non so Quanto mi convenga Anche perché Non ho Chissà che Proiettili A parte Per la KM Che sai Magari è Anche su Factory Me la son Cavata Perché comunque È abbastanza Precisa Cioè Me la ricordavo Peggio Ehm E con I PS Già Essendo 7,62 Qualcosa Fai Ma se Parliamo Di A K Quindi I classici Proiettili Proiettili A K Ma vaffanculo Che paura Classici Proiettili Da A K Con Ma PRS E PS Non è che No Attenzione ci proviamo non abbiamo niente da perdere o mi entra il face shot il buco di culo face shot perchè 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 io per sbaglio ho schiacciato il tasto sinistro ma dio santo ma dio santo mi si addormentato il dito sui tasto mi sono anche cacato sotto porca troia vaffanculo grazie a tutti ecco qua c'è difficile ed è difficile per me sentire accidenti mi nascondo il bagno mica raga guarda sto per prendere un colpo ma un colpo questo è talmente bastardo che viene a darlo un occhio qua nel bagno io lo so ecco la mia morte ho aperto una cassa riesco a capire se soffro o è sotto lm700 sarà lui che li ha uccisi? che succede? cosa? ok Va Non capisco Io ho visto passare uno Me la rischio Vedremo a fine Se era cattivo o meno Spero di averne beccato uno cattivo Vedremo a fine 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 Vediamo Vediamo O è più O è meno Vedremo a fine Non lo dice Ma lo scopriremo Ok dopo Tanto tempo sono riuscito A Maremma A Maremma Terra piantino Terra piattista Vedremo a fine 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 Potevo avere uno spawn un po' più vicino Quindi quando arrivo Devo stare attento Perché qualcuno potrebbe essere già spawnato Da sotto alla roccia Ma devo stare attento in generale Perché qui sono super aperto Perciò come fanno i pro player Mi ciuccio Un po' di antidolorifici E si vola Comunque In un video di Dangerisk Stava parlando un po' Delle Lui stava parlando Delle novità di Tarko Di quello che si vociferava un pochettino E io sotto ho commentato Che secondo me Su Tarkov adesso dovrebbero fare Un bilanciamento Che ci starebbe tantissimo Ovvero Dovrebbero togliere la possibilità Di assumere antidolorifici Se Cioè Se non vieni colpito Quindi Cioè se non subisci danno Mettiamola così Però Non vale Se subisci danno Da caduta Filospinato O compagno Perché giustamente Uno C'è un compagno Un compagno Gli da un colpetto di accetta Alla gamba E si prende Il painkiller E Non cambia niente Almeno che Non è da solo Però è da solo Si lancia Si fa un po' male O va Alla O va ad un filospinato E si fa Ti prende Praticamente Niente di danno Ma lo conta come danno E poi ovviamente Una volta Che Finisce l'effetto Se stai bene Non Non lo puoi più Riutilizzare Devi ovviamente Rifarti Ricolpire Perché così Se uno corre in opening E il coglione Gli puoi rompere Perché io praticamente Mi dimentico sempre Di fare quello che fanno tutti Ovvero prendere Dei painkiller Prima Del dovuto Così Quello lì corre E non si fa nulla Comunque Non ci interessa Loot Non ci interessa Fight Come al solito Almeno che Non ci ritroviamo In mezzo Non ci interessa La SKS Però non è male Adesso Vi dirò la verità Con questa mappa Se devo fare qualcuno Da lontano Non ci interessa vediamo se non vengo tappato da chissà dove questo non è male da usare o da vendere questo mi serve per ride out mi servirebbe anche l'accendino per ride out a dire il vero ok l'app per gli scav non ci interessa devo andare direttamente al resort che è successo? no no vabbè dai mi si è staccato starlink per un attimo no no vabbè no però così no ma dai va bene morire in tutti i modi però così perché starlink decide di staccarsi per 15 secondi non è possibile cazzo mi avrà ucciso uno scavo un player finalmente ho trovato dei server dove riesco a portare avanti le quest dove non mi disconnette per il ping alto ma si disconnette starlink ah no 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 Poi quando ti riconnetti Ma sei morto Potrebbe dartela la schermata di morte Così sai se effettivamente sei morto Perché il gioco ha deciso Che hai abbandonato E quindi rip O sei morto Perché effettivamente Perché lì non c'era nessuno O c'era qualcuno in distanza E quando mi ha disconnesso Va a sapere dove ero Ma magari ero anche sotto al ponte Ero lì non lo so Però dio santo Cioè quando La mia vita decide Di darmi dello sfigato Me lo fa proprio vedere Ora mi sentivo un po' più sicuro Con quella KM Con i 762 PS Che con Questi qua PS 545 545 39 Da 9 I PSPS PS Probabilmente quando colpisci uno Fanno PS Ora voglio solo Ma proprio sconfortato Ora voglio semplicemente arrivare all'antennina Togliermi dalla minchia E basta L'antennina e togliermi dalla minchia Ad esempio Path Guardate Da E Road at railbridge Mai vista in vita mia A parte il rotocasto Andremo a rotocasto Qual è il problema Il problema è che probabilmente Non ci arriverò nemmeno Perché sto passando dalla parte in cui non dovrei passare Devo andare dall'altro lato Vaffanculo Mi ha fatto prendere un infarto So che già sto in una zona in cui devo stare So che già sto in una zona in cui devo stare So che già sto in una zona in cui devo stare So che già sto in una zona in cui devo stare Grazie. 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 Non ha più fatto un passo quello che ha sparato con lo shotgun silenziato. Grazie. L'ho visto. Grazie. Ok, qua che correva era lo scout. Sono salvo? Non ce ne sono più? Sono pazzo, ho visto qualcosa muoversi in quel buco là. Qualcosa passare. Probabilmente sono pazzo. Ogni tanto flash ho cose che non esistono. Grazie. 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 Cecchino. Ma poi già la seconda volta... Cioè... Prego qualcuno mi dica che cazzo significa perché sennò... Cioè io ho paura vengo bannato per niente, per un problema che non so che cazzo... Prova... Che OBS... Boh... Ok. Ecco che cosa significa... Perdere tempo. Quella l'avevo già bella e luttato e me ne ero scappato. Ma perché oggi è deciso di avere problemi su problemi, l'ho preso nel culo. Ma va bene. Ma va bene così. Vabbè, oggi è andata in questo modo. Mi sono anche dimenticato... Mi ha tappato un testo. E niente. GG. Oggi l'elmetto non è servita a niente. Eh, signorini. Per questo video è tutto. Non siamo riusciti a fare quello che dovevamo. Abbiamo perso un sacco di roba perché il gioco oggi ha deciso di darmi problemi anche con l'anti-sheet. Perché boh... Oggi... Oggi... Garbava darmi sti problemi. E niente. Niente. Vabbè. Ce ne siamo portati due all'inferno con noi. Questo qua... Boh. Il primo colpo mi sembrava di averlo sparato preciso come quello che avevo ucciso prima prima. Ma... Vabbè. Questa volta non è andata bene. Lui corre, inizia a sparare, mi becca in testa. Io... Quindi, signori. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace. E se vi interessano quei video dell'anima di Tarkov vi iscrivetevi. E vi ricordo che tutti i giorni sono in live dalle 14 escluso problemi. Quindi c'è pure il link di Instagram perché lì aggiorno su tutto. Quindi, signorini. Grazie per la visione e alla prossima. Ciao ciao. Is a legend. Grazie a tutti.